Tragedia in provincia di Enna, dove una donna di 32 anni, Laura Di Dio, ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni. Il delitto si è consumato a Pietra Persia, un paese dell'Ennese, nell'abitazione della vittima. La donna, fermata dai carabinieri, ha confessato l'omicidio dichiarando di essersi difesa dalla madre del marito. Poi, però, avrebbe aggiunto di non sopportare la suocera. La 32enne è stata fermata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana avrebbe aperto la porta di casa all'onora, che poi l'avrebbe aggredita in cucina con un'arma da taglio. Solo da qualche tempo avevano ricominciato a parlarsi, dopo anni di interruzione di ogni tipo di rapporto. Un fendente ha raggiunto la vittima alla gola. Sul luogo dell'omicidio si è arrecato il pubblico ministero della procura di Enna, Michele Benintende. Intanto c'è sgomento e incredulità nel piccolo paesino di Pieta Persia. La notizia ha scosso tutta la comunità pietrina per il tragico fatto di sangue. È una tragedia, ha detto il sindaco Salvuccio Messina, che mai nessuno avrebbe voluto che si verificasse. Il vicario Don Osvaldo Brugnone ha espresso vicinanza alla famiglia con la preghiera e l'affetto. Stesso pensiero del presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Miciche. Si tratta di un tragico evento che ha sconvolto le famiglie e l'intera comunità. È un tragico evento che segna profondamente, oltre alla famiglia della vittima, anche alla signora che ha commesso l'omicidio e la sua stessa famiglia.